ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'impero delle tenebre anche quest'oggi voglio fare l'unboxing di un model kit dedicato a gundam sd sengoku den ovvero la rivisitazione in stile samurai appunto dei classici gundam con l'aggiunta dei personaggi famosi appunto dell'era sengoku questo anche se non è proprio facile da capire al primo sguardo se tratta di uesuji kenshin ovvero uno dei samurai dell'epoca di nobunaga tra l'altro più famosi è il modello 332 della linea uscito nel 2009 che va a raffigurare appunto uno dei condottieri più potenti dell'epoca infatti tra uesuji e takeda c'era una grossa faida e poi chiamiamola l'arrivo di nobunaga spazzovio meglio andò a infiammare quello che divenne uno stato di guerra quasi perenne per un bel po di tempo sino alla sconfitta di quello che fu all'epoca il cattivone come ci insegna appunto sengoku basara che è stata una delle prime opere o meglio uno dei primi videogiochi che sono andata a giocare con questa trama poi c'è anche l'anime c'è il fumetto quindi se volete approfondire la storia molto romanzata di questi personaggi appunto di kenshin uesuji c'è davvero davvero da sbizzarrirsi soprattutto nelle vesti eroiche in questo caso invece si tratta di un Gundam sd molto semplice però davvero tanto stiloso partiamo dal fatto che è uno di quei modelli di seconda generazione quindi con un minimo di articolazioni per quello che riguarda diciamo le gambe le braccia però in questo modello particolare non è stato implementato più di tanto si è puntato o meglio bandai ha puntato principalmente sull'inserire parti metal quindi ci sono queste parti gloss metal che fanno il loro effetto poi ricoperte da adesivi perché naturalmente il modello ha un sacco di dettagli quindi volendolo si può anche andare a rifinire a mano colorandolo cosa notevole oppure usare gli adesivi in dotazione che però coprono solo certi dettagli quindi a vostra discrezione il bello è punto poter scegliere e andare a realizzarlo nel modo che si preferisce perché poi i dettagli degli adesivi sono anche molto validi però non coprono tutti chiamiamoli i dettagli che bisognerebbe valorizzare quindi bisogna scegliere come utilizzarlo come dicevo qua si è optato per utilizzare delle braccia già statiche monoblocco però per il resto ci sono un bel po di chicche tra cui appunto la forma di diversi pezzi tra cui anche il cavallo perché infatti questo modello in particolare è dotato di una cavalcatura e perciò è in realtà più modellini in un'unica confezione infatti è anche presente il piccolo servitore la ball monoblocco praticamente che però anche questa colorata fa il suo piccolo effetto c'è in questo sprue color appunto gloss metal dorato è sempre più che altro arancione che dorato secondo me perché ci sono altri gloss metallizzati migliori che ho visto più che altro negli anni successivi e qua come vediamo anche il cavallo è praticamente monoblocco e anche la testa è quella di vecchia generazione gli occhi sono l'adesivo ma non c'è la possibilità di ruotare l'espressione o comunque la profondità del pezzo è semplicemente un monoblocco però ha il suo perché le polycap appunto sono quelle classiche dei vecchi sd la mobilità in questo caso è davvero minima soprattutto se mettete il personaggio a cavallo che diventa un blocco unico il manuale è completamente in giapponese perché è un manuale appunto di vecchia generazione però si capisce al volo come costruire si parte da qua in basso sotto il disclaimer e qua come vedete sull'armatura ci vanno davvero un sacco di adesivi per il resto il corpo base è semplice da realizzare e rimane però appunto molto statico per il resto l'armatura si sovrappone facilmente per andare a finire poi appunto con il cavallo che ha la possibilità come vedete di andarsi ad agganciare ma non a farsi cavalcare come altri personaggi che vanno letteralmente posti sul cavallo ma si ha una sorta di trasformazione per agganciare appunto il personaggio e farlo diventare una sorta in realtà di centauro è una cosa un po' particolare che però dovrebbe essere funzionale lo standardo è abbastanza bruttino consiglio sempre di ritagliarlo meglio di fotocopiarlo prima di ritagliarlo però non è che mi piace tantissimo diciamo che mi aspettavo qualcosa di un po' più appariscente sarà forse che è bianco però al suo perché il personaggio appunto storico è famoso con la sua faida contro takeda infatti si fanno a fronteggiare e anche takeda è uno dei modelli che ho nel mio chiamiamolo harem di model kit dedicati ai personaggi storici giapponesi in questo caso in versione gundam devo perciò dire che sono abbastanza soddisfatto di questo kit nonostante mi aspettassi una maggiore mobilità del personaggio però il fatto che abbia comunque il cavallo e anche la ball va a compensare diciamo il molding old style del personaggio in sé tra l'altro appunto considerando il prezzo molto basso devo dire che c'è un sacco di roba dentro l'effetto finale non è minimamente come quello che viene mostrato qua nelle foto perché come al solito bandai è molto ma molto ingannevole diciamo così in confronto a quello che è poi il prodotto finito senza rifiniture perciò come dicevo se volete farlo venire simile a quelle foto dovete andare a colorare e a diciamo ritoccare molti ma molti dettagli se invece vi accontentate di costruirlo a secco e divertirvi comunque nel farlo è un modello semplice perciò se seguite il blog imperodeletenebre.blogspot.com troverete un po di foto e una recensione su come viene in realtà questo pezzo senza appunto ricolorarlo da zero io comunque ve lo consiglio se siete amanti dell'epoca sengoku se vi piacciono appunto i samurai e i gubundam perché è una cosa che è come appunto si è visto nel corso degli anni si sposa molto bene tra di loro perciò averne in collezione almeno per me è un è una cosa molto piacevole è un model kit simpatico e io sono contento di avervelo fatto vedere anche perché è molto di nicchia nonostante si trovi abbastanza facilmente a prezzi davvero molto abbordabili è poco conosciuto meno appariscente di altri e magari anche nelle fiere la scatola è piccola non la vedete però ne vale la pena ha il suo perché quindi io per adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video